amma buonasera buonasera sei un poco stanchino un poco solo più accaldato più assolato allora cominciamo sempre dai rimasoghi di ieri scetto i cosi che restano a ieri perché qua si cucina industrialmente non ha importanza scetto però la novità di oggi quale scetto orata al cartoccio semplice buona estiva ma anche tu te l'hai fatto solo a me sì solo a te prima a me come due non mi vanno una la do a te sennò ti mangiavi prima sugli ieri ma clarissa cinzia niente oggi orata no 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 ci potevi passare 20 euro un'orata no 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 clarissa dice che sta male di stomaco che ha mangiato clarissa che poi si chiama epi non svelarlo perché il video ce l'ho nelle bozze ancora c'ho il video sul segreto di 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 ha mangiato in convento convento dice che non è chiuso ora ma la conoscono no quindi lei ci va ma è di casa beneficenza sì sì beneficenza ah beneficenza fa e fa nulla fare in bocca a nuaggio ma domani a mangiare a mia ah fa beneficenza e poi domani a mangiare a tia sì ma beneficenza di che i robbi vecchi c'è l'una sciappi fa cappucci di lana sciappi c'è l'una vabbè ma ne parliamo meglio stasera è live dalle 22 sì stasera è live dalle 22 buona cena con la mia forchetta ci si raffredda no vabbè no vabbè ma c'è meglio lo ristorante 6 no vabbè